Si accendono i riflettori sulla 34esima edizione del Sondrio Festival, mostra internazionale dei documentari sui parchi. La rassegna che soprattutto negli ultimi anni ha rafforzato il suo prestigio a livello internazionale, non vivrà quest'anno le sue emozioni al teatro sociale, ma sugli schermi di casa nostra. Con un testimonial d'eccezione, Alessandro Cecchi Paone, grande amico del Sondrio Festival, sarà lui a introdurre i documentari accompagnando il pubblico alla visione. Quest'anno, dal 14 al 29 novembre, ovviamente in streaming per le ragioni che tutti conosciamo, ma non per questo meno ricco e meno in grado di sostenere la nostra passione, il nostro amore per la natura e gli animali, ma anche per conoscere zone del mondo, vicine e lontane, che non abbiamo mai visto prima e di cui non immaginiamo l'esistenza. Con la consueta lezione di fondo di tutti i documentari che vi presenterò io stesso, uno per uno, e cioè che tutto questo va protetto, tutto questo va conservato, tutto questo fa parte non solo dell'eredità che abbiamo ricevuto dalla storia del mondo, ma che noi dobbiamo preservare per chi verrà dopo di noi. Non è soltanto un fatto di bellezza estetica, è un fatto proprio di biodiversità, cioè di ricchezza biologica del nostro mondo, che è un elemento fondamentale perché sia un mondo vivibile. Vi aspetto. 14 documentari in concorso selezionati fra i 78 presentati, per scegliere quale vedere dal salotto di casa, dal 14 novembre gli spettatori non devono far altro che accedere al sito www.sondriofestival.it e prenotarsi. La visione è gratuita e offerta a un massimo di 2.500 persone a documentario, per una platea potenziale di 35.000 spettatori. L'attività didattica, anch'essa in streaming, che coinvolge oltre 4.000 studenti, è già iniziata in questi giorni con i laboratori e la visione dei documentari in concorso. Sondrio Festival è organizzato da Assomidop, che riunisce Comune di Sondrio, BIM, CAI, Parco Nazionale dello Stelvio e Parco delle Europie Valtellinesi.